In questa lettera, datata del 15 maggio, lettera che qui viene riportata soltanto in parte, noi vediamo rappresentato nel modo più noto, più famoso dell'interopera, l'altro elemento tipico del romanticismo, un altro grande sentimento, cioè l'amore. Quello è successo, infatti, nello svolgersi della vicenda? Che Jacopo, appunto, è fuggito da Venezia e si è rifugiato sui Colli Ugani e qui è incontrato la giovane, dolce Teresa, di cui si è ben presto perdutamente innamorato. L'amore sarebbe anche ricambiato da Teresa, ma un amore chiaramente impossibile, in quanto la giovane è già stata promessa e sposa ad un'altra persona, Odoardo, una persona fredda, distaccata, non è certamente un matrimonio d'amore e quindi il tipico amore romantico è impossibile, ancora una volta, l'inevitabile scontro tra il reale e l'ideale. Almeno una volta potremmo dire che il sentimento naturale che sorto spontaneo fra due ha trovato la sua soddisfazione, i due si sono baciati. E qui vengono descritte, appunto, le sensazioni, le emozioni, le passioni interiori del giovane Jacopo subito dopo questo bacio e ce lo dice, dopo quel bacio io sono fatto divino. Non si sente più quasi come una persona normale e finalmente è riuscito a superare quella materialità, quel legame terreno, realistico, concreto, che impedisce al giovane, al poeta, all'uomo di raggiungere quelle che sono le sue naturali aspirazioni, esigenze. E allora il mondo completamente cambia attorno a lui, le sue idee sono più alti, ridenti, il suo aspetto più gaio, il suo cuore più compassionevole. Il mondo è più bello. Di fronte a lui il mondo è quello, molte volte è descritto nell'arte e in poesia, di un'eterna primavera. Tutto si abbellisce di fronte ai suoi sbardi. Gli uccellini cinguettano, il vento, il vento nottiebido primaverile, soffia tra gli alberi ridando appunto vita alla natura, le piante si fecondano, i fiori colorati crescono sotto i suoi piedi e lo stesso poeta sembrano essere più nemico degli uomini, gli uomini più nemici suoi riesce a vivere in mezzo a quella società da cui normalmente sembra fuggire. E' la natura, ecco, il rapporto con la natura, una natura che si offre ancora placida, calma, tranquilla, dove poter almeno per una volta placare gli inquietudini, quell'eterno furore che altrimenti tormentano l'animo inquieto, romantico del protagonista. Tutto attorno a lui è bellezza, tutto attorno a lui è armonia. Vediamo allora come questo mondo, che ancora una volta non è un mondo reale, concreto, non è un documento dal vero, quello che ci viene descritto, è un qualcosa che viene appunto rivisto alla luce dei sentimenti, delle emozioni, delle passioni. E' l'amore che fa vedere il mondo in questo modo. Ecco, un mondo come? Fatto di bellezza e di armonia. Sembra ancora quel mondo classico, tante volte era dove l'equilibrio ritorna in qualche modo a farlo da padrone, dell'amore a descriverlo in questo modo. Facendo così lui può assolutamente dimenticare tutto, può addirittura delirare, come dice lui, e essere in qualche modo, tra che modo, trasportato in un mondo arcadico quasi, di fantasia, dove non c'è più di fronte a lui l'arido vero, ma delle ninfe, ignude, saltanti, inghirlandate di rose, e in loro compagnia le muse, potatrici delle arti e delle lettere. E' l'amore che domina su tutto. Ma è questa la realtà, io già prima accennavo all'arido vero, ben presto però, la ragione ritorna ad imporsi. La filosofia, ricordiamo che anche Foscole figlio della filosofia settecentesca, non crede nella persistenza dell'anima dopo la morte del corpo. Per lui tutto è materia. Quindi tutto ciò non può che essere che una grande illusione. Or, non è tutto illusione. Questo l'insegna, insegna appunto al poeta Foscolo tutta la filosofia materialista settecentesca. Ecco che allora, a Foscolo e allo stesso Ortis, a sua maschera, non può rimanere altro che rimpiangere la beatitudine degli antichi, i quali non ancora arrivati a questo sviluppo della filosofia, potevano bearsi, credendosi degni dei baci delle immortali dive del cielo. Potevano appunto sacrificare alla bellezza e alle grazie. Potevano in qualche modo, ecco, essere preda di questo mondo dove si diffondeva lo splendore della divinità che correggeva le imperfezioni dell'uomo. Ecco che allora il mondo degli antichi è un mondo in cui ancora il bello e il vero possono ancora esistere. fantasie, illusioni, ma potevano e possono ancora esistere in un certo senso, perché senza il bello, il vero e le luni generate da tutto ciò, la vita per il poeta e per il giovane Jacopo non sarebbe altro che dolore o ancor peggio, rigida e noiosa è l'indolenza, cioè un qualcosa, un sentimento che il singolo prova quando non trova alcun senso, non riesce a dare alcun significato all'esistenza, un qualcosa che allora è ancora peggio del dolore, la noia, nulla che si affaccia. E' chiaro che tutto questo non è la realtà, ma è quell'elemento positivo, è l'unica risposta possibile che il nuovo animo, l'animo romantico del foscolo, riesce a proporre di fronte, ecco, alla ragione, alla materia che non dà alcuna soddisfazione, che ci fa vedere solo morte, solo nulla, un nulla eterno, di fronte a cui noi invece attraverso le illusioni possiamo in qualche modo, illudendoci certo, bearci, credere in che cosa? Nell'amore, nella poesia, nella bellezza, nell'arte che celebra tutto questo, illusioni, ma la vita in qualche modo può continuare ad esistere e a cercare di trovare quel poco di piacere, quel poco di felicità, proprio attraverso l'illusione e la loro poetica. E' l'unico modo attraverso cui l'ideale riesce a trovare il suo spazio di vita, di esistenza, nei confronti altrimenti della, per dire, dominio del reale.